Quello che il governo sta introducendo con i voucher va nella direzione opposta, non di ridurre la precarietà ma di aumentarla. Il tema della precarietà è un tema che deve essere affrontato perché stabilità vuol dire mantenimento anche della forza di lavoro in provincia. Lavoro stabile, salari adeguati e formazione continua. Solo dopo si possono fare i conti sulla presunta mancanza di mano d'opera che in questi ultimi tempi viene attribuita allo spopolamento della provincia di Belluno. Ne è convinta la FIAM CGL che apre la discussione sui temi caldi del momento e che attualmente sono completamente assenti dal dibattito politico a partire dal salario che è un'emergenza nazionale. I salari italiani sono non cresciuti ma decresciuti negli ultimi anni, contrariamente a quello che accade nel resto d'Europa. E quindi un salario degno, dignitoso è alla base poi anche del mantenimento della forza di lavoro in provincia e quindi le politiche salariali devono essere ricompresi. I dati Istat dimostrano che dal 2007 al 2020 i contributi sociali a carico dei datori di lavoro sono diminuiti del 4% mentre quelli a carico dei lavoratori sono rimasti sostanzialmente invariati. Le imposte sul lavoro dipendente sono aumentate del 2%, la ritribuzione netta è calata di 10 punti percentuali. E poi c'è la questione del precariato con la reintroduzione del voucher destinato a destabilizzare la platea di persone che cercano un lavoro e con il lavoro un futuro. Anche i fatti recentemente accaduti in provincia di Belluno stanno lì a dimostrarlo. Noi alla Epta Costa abbiamo storie di lavoratori che pensavano e credevano di aver trovato una stabilità, un lavoro stabile che desse futuro a loro e a loro famiglie e invece nel giro di qualche giorno lo hanno perduto. Crediamo che questo sia un altro tema importante da affrontare e quello che il governo sta introducendo con i voucher va nella direzione opposta, non di ridurre la precarietà ma di aumentarla. Da ultimo, ma non meno importante, il tema della formazione continua. Secondo noi i lavoratori vanno formati in costanza di rapporto di lavoro, cioè io assumo un lavoratore, gli do un contratto a tempo indeterminato e nel mentre sta lavorando gli do la formazione necessaria perché la sua professionalità e competenze aumentino. Questo garantisce al lavoratore di avere competenze e professionalità ma anche l'azienda di avere un lavoratore stabile. Per la FIAM CGL da qui si deve ripartire per poter guardare con fiducia al nuovo anno.